ciao ragazzi benvenuti al riff di oggi vi farò vedere come suonare quello che avete appena sentito partiamo da un fa tasto 8 corda di la andiamo a suonare quella che è una triade di fa maggiore cioè fa la e do quindi partiamo con il dito medio fa il la lo troviamo sulla corda di re al tasto 7 e il do con il mignolo al tasto 10 corda di re poi ci appoggiamo al si bemolle e qua cioè corda di re tasto 8 qua facciamo una triade di si bemolle maggiore quindi manteniamo la stessa diteggiatura del fa maggiore solo che partiamo da si bemolle andremo a prendere le note si bemolle e fa poi ripartiamo sempre fa la do e concludiamo con si bemolle si bemolle la fa facciamo insieme lentamente three four ah ecco la partenza è in levare un tu tu ti tu three four un seconda volta uguale sol do e poi ripartiamo do e poi ripartiamo sempre tenendo conto della pausa facciamolo insieme lentamente tutto try four un e poi ripartiamo sempre tenendo conto della pausa facciamolo insieme lentamente tutto tre four un Ancora Sol Do Riparte e fa di nuovo lo stesso giro Bene, provateci, fatemi sapere se vi piace, se ci riuscite E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti, buona musica Carlo Ciao a tutti